Ciao, sono Luigi di Clarintux, un tux per sempre. Benvenuti nel settimo video della serie dedicata ai comandi da terminale. Oggi vi proporrò solamente tre nuovi comandi, però molto utili. Il primo comando che voglio proporvi è SUDO, Super User Do. Questo comando, che probabilmente già conoscerete perché viene molto ma molto utilizzato, serve ad eseguire un determinato comando con i poteri di root. Quindi il comando SUDO ci risulterà molto utile nel caso in cui vogliamo operare su file per cui non abbiamo i permessi, oppure semplicemente quando vogliamo apportare modifiche al sistema, ad esempio installare nuovi pacchetti, applicare gli aggiornamenti, eccetera. Come primo esempio con il comando SUDO, beh, vi propongo SUDO APT UPDATE ampersand ampersand, quindi end end, SUDO APT, scusate che sposto la camera, SUDO APT UPDATE. Con questo comando, se siete su una distribuzione basata su Debian oppure su Linux, aggiornerete i pacchetti installati sul vostro sistema, aggiornerete il vostro sistema. Se siete su una distribuzione basata su Arch, basterà scrivere SUDO PACMAN I prossimi due comandi che vi propongo sono comandi per ricercare file o directory nel sistema. Il primo comando è FIND. Con questo comando è possibile ricercare in veramente molti modi, se date una sbirciatina alla pagina di manuale con MAN FIND vedrete che la pagina di manuale è veramente gigantesca. Comunque vi mostrerò come utilizzarlo nella maniera più semplice. Intanto vi faccio vedere che su questa cartella, sulla directory in cui mi trovo attualmente, ho quattro file. Linux.txt con la L maiuscola, Linux.txt con la L minuscola, Mac.txt e Windows.txt. Quindi per usarlo intanto scriviamo FIND, dopodiché dobbiamo andare ad inserire il percorso su cui vogliamo effettuare la ricerca. Se mettiamo punto stiamo indicando a FIND di cercare sulla cartella corrente, sulla directory corrente. Poi scriviamo trattino name e scriviamo il nome del file, linux.txt e premiamo INVIO. Ed ecco che ovviamente mi ha trovato il file linux.txt su questa directory. Se vogliamo cercare in modo case insensitive, cioè con le lettere maiuscole, indipendentemente se le lettere sono maiuscole o minuscole, scriviamo INAME. Quindi FIND, il percorso su cui vogliamo cercare, meno INAME e il nome del file. Vedete che questa volta ha trovato entrambi i file. Il file linux.txt con la L maiuscola e il file linux.txt con la L minuscola. Se vogliamo cercare da qualche altra parte del sistema, ad esempio vogliamo cercare su tutta la cartella, su tutto il nostro file system, andiamo con sudo, find, slash, quindi gli stiamo dicendo di cercare sulla directory root e su tutte le sotto directory del sistema, INAME e diciamo che cerchiamo un file linux.txt. Ammesso che esista, vuole ovviamente la password perché abbiamo scritto sudo. Adesso ci vorrà un attimo, prima che la ricerca sia finita. E niente, ovviamente mi ha trovato solo questi due file che già aveva trovato sulla directory corrente. Ma diciamo che vogliamo modificare il comando appena dato, scrivendo non linux.txt, ovvero il nome esatto, ma semplicemente linux. E gli diciamo, scriviamo, apriamo le parentesi, le virgolette, quindi abcdoppi, asterisco linux, asterisco, e chiudiamo gli abcdoppi. In questo modo find andrà a cercare su tutto il sistema i file che contengono la parola linux. Vedete, qua ad esempio arch linux, ad esempio qua linux libre, ad esempio qua linux libre, util linux, eccetera, eccetera. Bene, abbiamo visto come cercare file con find. E' possibile anche cercare delle cartelle. Come si fa? Dobbiamo indicare con type il tipo d. d sta per directory. Quindi sudo find il percorso su cui vogliamo ricercare, poi meno type d, che sta per directory, e poi meno iname, se vogliamo cercare in modo case insensitive, e la stringa che vogliamo ricercare. Premo invio. Ecco, vedete, queste sono tutte le directory che contengono all'interno del nome la parola linux. C'è un'alternativa al comando find, che risulta molto più semplice da utilizzare. Sto parlando di locate. Ad esempio, scrivo locate linux.txt. Ecco, vedete, ha trovato il file linux.txt all'interno della directory corrente, ma ne ha trovati anche altri due altrove. Adesso effettuo la stessa operazione con la L maiuscola, locate linux.txt, e questa volta locate ha trovato l'unico file con la L maiuscola presente su questa directory. Non ne ha trovati di altri. Vado con locate windows.txt e mi trova il file che ho presente su questa cartella, ma anche altri due file. Bene, locate opera in modo piuttosto diverso da find. Find effettua la ricerca nel momento in cui gli dici di effettuare la ricerca. Locate funziona con un database che va aggiornato, ovviamente. Il database viene aggiornato, credo, una volta al giorno. Comunque, se volete aggiornarlo sul momento, andate con sudo update db, update database. Quindi, dato questo comando, ci vorrà un attimo, il database verrà aggiornato, e da questo momento in poi potrete effettuare la ricerca su tutti i file, anche i file appena creati, i file nuovi. Quindi, se non avete il comando locate installato sul vostro sistema, avete bisogno del pacchetto mlocate. Quindi andate con sudo apt install mlocate. Ma probabilmente già l'avrete installato. Bene, questo è tutto per oggi. È stato sicuramente un video più breve del solito, ma con comandi molto utili. Spero che il video vi sia piaciuto. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao, dal vostro Clarintux.